Pescara si prepara al grande evento. Martedì prossimo 17 maggio il Giro d'Italia partirà proprio dal capoluogo adriatico. In città c'è fibrillazione. Nei prossimi quattro giorni a partire da domani i negozi saranno aperti dalle 10 alle 21. Pescara insomma sotto i riflettori dell'Italia e non solo. L'assessore al commercio Alfredo Cremonese. Quattro giorni davvero frizzanti di grandi coreografie, vetrine della città colorate di rosa. Insomma c'è grande fermento. Hai detto bene c'è grande fermento, un grande evento che siamo riusciti a portare a Pescara ed è solo l'inizio. C'è una grandissima partecipazione. Voglio per questo ringraziare tutti i cittadini ma voglio anche ringraziare tutte le associazioni di categoria e tutti i commercianti che stanno dando una grande mano all'amministrazione per realizzare un grande evento. Come dicevi giustamente le vetrine sono già tutte colorate di rosa. Adesso l'amministrazione, il comitato di tappa sta girando anche per la città proprio per portare del materiale del Giro d'Italia. Insomma siamo pronti anche con gli eventi importanti che ci saranno prima proprio della tappa ufficiale. A proposito del concerto di Jimmy Sachs. Sì e con grandissimo orgoglio che Pescara ospita un artista internazionale, Jimmy Sachs, noto ormai in tutto il mondo. Uno dei più cliccati su Spotify e comunque su tutti gli altri canali di musica per i ragazzi. Lo aspettiamo domani a Piazza Salotto in un concerto gratuito alle ore 21. È tutto pronto per far partire una festa davvero importante, per far conoscere la nostra città, come dicevi giustamente, non solo all'Italia ma al mondo intero. Bisogna anche aggiungere che il Comune di Pescara ha inditto un concorso fotografico, no? Sì, premeremo la migliore vetrina in rosa e premeremo anche il miglior piatto rosa, il cocktail rosa. Voglio ricordare, come ho detto prima, che tutti gli esercenti, le associazioni, i commercianti sono messi a disposizione e con la loro creatività stanno realizzando delle cose davvero belle. Ci sarà una giuria che è composta dal comitato di tappa che girerà, farà delle foto, riceverà delle foto e alla fine deciderà chi vincerà questo meraviglioso concorso, che è un concorso che mira a far conoscere Pescara, a rendere più bella Pescara. Oggi l'amministrazione, vi do un'anteprima, sta ragionando sul concedere per questi tre giorni, cioè sabato, domenica e lunedì, un aumento dell'occupazione del suolo pubblico perché vista la bella giornata e visto che proprio ci sarà la possibilità di fare shopping per i nostri negozi fino alle 21 orario continuato, vogliamo dare la possibilità di mangiare anche all'esterno in queste belle giornate e quindi di avere una maggiorazione dell'occupazione del suolo pubblico.